Sì, non so, non si può giudicare come una copertina Come tuo avvocato ti consiglio di prendere un sorso dalla bottiglietta marrone del mio necessario da bar Non te ne servirà poco Sono un passaggio Cosa è questa cosa? In confronto a mescalina pura assomiglia a una Cingerino, quello mio Cingerino Adreno-Cromo 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 Cos'è questa cosa? Adreno-Cromo Sai cosa ci serve? Ci serve dell'occhio Cos'è successo? Che c'entrano i chiari? Mi hai preso troppo bello, mi hai preso troppo, troppo Sei sul punto di asplodere il corpo Sei sul punto di asplodere il corpo Gesù, questa roba ti è arrivata dritta in cima, non è vero Guarda la tua faccia Ricordo di aver pensato Gesù, che brutta cosa fare a botte con uno pieno di acero Cos'è successo? E' tipo di asplodere il corpo Non è vero il corpo E' come me distribui da dove sei nulla di acero E' diecchemia che vincia da La prima ondata sembrava una combinazione di mescalina e metedrina Dove ne prendo? Non importa, è assolutamente puro C'è un solo modo di procurarsela Alle piattole della adrenalina di un corpo umano Inoltre da colore A la 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 Grazie per la visione!